Naturalmente il gruppo FCA non poteva mancare in forze a questa nuova edizione del Parco Valentino, però uno degli stand più interessanti in assoluto del gruppo è senza alcun dubbio quello di Jeep. Vedete alle nostre spalle una delle prime novità, il restyling, la nuova Renegade. Non è la sola ma cominciamo da questa. Sì, il Salone del Valentino per noi è ovviamente un appuntamento importante non solo perché si svolge a Torino ma perché sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel nostro settore. Per questo motivo abbiamo deciso di presentare in anteprima europea proprio qui la nuova Jeep Renegade che sarà disponibile nelle nostre concessionarie a partire dalla prossima settimana. Novità sia da un punto di vista stilistico sugli esterni e gli interni della vettura ma soprattutto sotto il diciamo al cuore perché introduciamo le nuove motorizzazioni un telecilindri 1000 di cilindrata con CO2 di circa il 15-18% più basse rispetto alla precedente generazione. Perfetto e non mancate sulle nostre pagine perché presto potremo fornirvi il nostro primo test drive in anteprima e oltre alla Renegade c'è anche la nuova Wrangler. Sì, Wrangler è un modello per noi importantissimo perché è l'icona del brand Jeep e quest'anno introduciamo la nuova versione che sarà disponibile presso le concessionarie dopo l'estate e quindi anche in questo caso chiaramente daremo la possibilità agli appassionati di poter vedere le vetture della nostra gamma. Su Jeep abbiamo anche Compass lanciato nel mercato italiano da pochi mesi, successo importantissimo prima nel segmento, insomma è un brand che sembra piacere molto agli italiani. Già dal nostro primo test drive avevamo notato come fosse decisamente un'auto con delle qualità molto importanti e siamo sicuri che anche la Renegade e la Wrangler saranno lo stesso oppure la Wrangler potete vederla appunto allo stand Jeep del Parco Valentino. Durante l'estate arriverà anche per lei il nostro primo test drive in anteprima su strada e nei concessionari come abbiamo detto dopo l'estate. Quindi rimanete sulle pagine di Motore Online per tutti i dettagli ma soprattutto per un nuovo servizio dal Parco Valentino.